buonasera a tutti ragazzi bentornati sul mio canale ragazzi qualcuno dei miei amici mi ha detto ma non solo loro anche nei vari commenti che lasciate tomsando ma non fai più non ci aggiorni più sul calciomercato ragazzi io voglio bene ma a pisa non c'è da aggiornare niente aggiornamenti non ce ne sono quello che abbiamo preso è stato preso è stato preso bonfanti ma per il resto in entrata non c'è niente non c'è niente io con le varie fonti non c'è niente a meno che non esca un qualcosa vi ricordo che il calciomercato finisce il primo febbraio alle 20 quindi meno che non ci sia qualcosa all'ultimo minuto qualche colpo non lo so ma cioè non vedo c'è uscito ora nagy è andata a spezia perché d'angelo voleva a tutti i costi stanno guardando le verbe ma le verbe ha un ingaggio oneroso e quindi difficilmente poi tu riprenderà magari un'altra strada non si sa però d'angelo vedo che sta premendo da più non posso per avere altri questi altri due elementi vedremo cosa ma questi sono diciamo così elementi in uscita io credo che oramai turi e sia sia vicino alla all'uscita e le verbe l'ingaggio e altre le verbe noi abbiamo giocatori con un ingaggio spropositato secondo me ma per carità di dio il comu tanto ha fatto due colpi preso strefezza e fumagalli fumagalli bombe della c e poi niente christian dalle mura della fiorentina no è passata la ternana come difensore centrale era un buon difensore centrale secondo me era da prendere ma non andare a prende vabbè tanto inutile no è come quello di come dico sempre non si è battuta l'acqua mortaio perché tanto e poi sta la cremonese sta addosso a caso è da definire vediamo se i giocatori dirà di sì ma io credo che al 99 per cento dirà di sì noi ovviamente avendo ancora di slot pieni mi sembra non so dovrei fare comando ma tanto c'è parliamo del niente nel nulla no invece liberarsi di moreo gli ureschi invignato ma se metto quel faccio conti voglia di questo è il discorso c'è adesso questi giocatori piazzati ormai finito a calciomercato difficilmente le piazioni piazzi più e quindi di conseguenza non prendiamo nessuno difficile mai che ora volete prenderla già io se e sembra veniva questa fezzia no è troppo chiedere troppo chiedo caso no caso figuriamoci come coda no figuriamoci sempre prendiamo il giocatore finito no no noi si va sulle scommesse duraschi indure c'è uno hanno preso non lo so non so da dove viene che poi arriverà alla fine campionato quindi se ne parla per la stagione 24 25 io che poi un esterno un esterno mi può un esterno sinistro esterno destro non lo so cioè io sono sempre più mortificato di questa situazione veramente 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 mortificato quindi ragazzi non c'è niente da dire sul calciomercato quindi inutile che ma io per carità di dio lo faccio volentieri il video perché per carità non anzi fate bene a chiedere ma tanto inutile sarebbe tempo persa no c'è che cosa devo stare a commentare colpire che fanno le altre società cioè voglio dire questo è il discorso rapi salò ma piano non ho voglia più capito cioè nel senso passata la voglia passata la fantasia si va avanti così diciamo con un timone che vira non vira non si sa cosa fa fai capricci è inutile così e basta c'è nel senso ora si ora si andrà a cosenza perché la lingua batte dove dentro duole e non ci sarà nemmeno da alessandro stare a fermo un mese se va bene quindi fai giocare il giocatore dal dall'inizio vuoi che tiri fino alla fine c'è ma alla fine poi queste queste sono le conseguenze insomma devi risparmiare i giocatori buoni no devi cambiare fare i cambi quando è il momento no ma inutile perché sennò si va a arrivere cioè si innesca diciamo così un'altra no perché una cosa tira l'altra e quindi si va a innescare di nuovo un discorso che io voglio evitare perché tanto ormai è inutile no io speriamo che me la cavo speriamo che me la cavo e speriamo di mantenere la categoria questo è il discorso perché oramai non c'è più da cioè non è che non dice fatto no 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 manteniamo la categoria speriamo presto di raggiungere quella quota di 45 46 punti che servono e chiudiamola qua quest'anno perché c'è veramente un colpo di spugna e rimettere diciamo in sesto la situazione che adesso non dico drammatica no per ora è tragica e non siamo arrivati ancora discorso drammatica e tragica ma non è drammatica no quindi dovremmo dobbiamo vedere cosa succederà sabato contro il cosenza e poi con la sandoria a casa dopo di che valuteremo se è ancora tragica o è diventata drammatica questo è il discorso no perché tanto ormai ormai questo 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 è nelle corde lo vediamo tutti insomma lo visto tutti a ecco poi volevo dire un'altra cosa per quanto riguarda il calcio mercato faremo calcio mercato faremo io matteo calcio mercato e diciamo così l'anteprima del cosenza lo facciamo venerdì sera quindi mi raccomando venerdì sera collegatevi sintonizzatevi al canale per chi vuole sapete che c'è qui si parla ruota libera tutti possono dire la sua ci mancherebbe anzi deve essere così se uno dice una cosa che non è giusta se uno vede una cosa in un modo in un altro ha tutto tutto il tutto il diritto di esprimere la propria opinione ci mancherebbe altro ci mancherebbe altro bene detto questo io che dire questo caccia piccato io credo che per noi insomma sia finita qua ripeto a meno che all'ultimo minuto come ci ha abituato corrado giovanni esce fuori con qualcosa ma qualcosa non credo che ormai io penso che si sono accasati tutti i pezzi forti no quindi difensore centrale dalle mura che io o meno mi sarebbe dispiaciuto è andato altro quindi quindi alla ternana e quindi poi steffezza e fu magari si sono accasati a como caso probabilmente a 99 per cento andrà alla cremonese queste quanto quindi non male che c'è bonfanti che vi devo dire io mi fermo qua mi fermo quando non ho più niente da ma non aggiungo altro perché cosa vogliamo aggiungere niente questo è il calcio mercato del pisa sporting club che vogliamo fare è così noi non abbiamo bisogno niente non abbiamo bisogno di nessuno noi siamo a posto così beh se vi è piaciuto questo video ragazzi pollici su iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto io vi rimando a venerdì con matteo poi faremo il terzo tempo e via via così bene che dire più ho detto tutto praticamente per questo calcio mercato di tutto tutto io vi ricordo una cosa il pisa resta e tutto il resto passa a venerdì